amici di fano tv buonasera e bentrovati in questo approfondimento in studio si torna a parlare di caccia come avviene annualmente e quindi benvenuto a paolo antonioni presidente di federcaccia ben trovata anche a te allora tutti i telespettatori di fano tv c'è una data da segnare in agenda è quella del 30 agosto si parla di un convegno importante con altrettanti temi da trattare certamente ritorniamo a fare questo grossissimo convegno a fano il 30 di agosto ritorniamo all'edizione ante covi quindi con la cena iniziamo alle 19 30 con la cena poi alle 20 e 45 interverranno tutti gli ospiti ospiti importanti il presidente della regione francesco acquaroli il vicepresidente e assessore alla caccia mirco carloni l'assessore all'ambiente stefano guzzi poi ci sarà il presidente del parco del conero e anche l'amministratore delegato della benelli armi quindi questi sono i nostri ospiti si parlerà di caccia di presente e anche di futuro tematiche importanti fondamentali da trattare problematiche da risolvere appunto anche prospettive ma qual è la situazione della caccia a livello nazionale allora la situazione della caccia a livello nazionale è problematica tra l'altro sono intervenute delle novità fra cui la modifica della costituzione è stato introdotto l'articolo sul benessere animale animale che va leggermente in conflitto con la legge 157 del 92 che è una legge oramai datata e che ha bisogno di rivisitazioni noi come federcaccia stiamo da da quasi un quindicennio cercando di modificare la legge 157 perché oramai è sorpassata è cambiato l'ambiente è cambiata la fauna è cambiata è cambiato un po tutto anche il clima lo vediamo proprio in questo periodo in questo senso ci hanno dato una mano anche il mondo agricolo perché ha chiesto con forza la rivisitazione di questa legge per cercare di ampliare il periodo di caccia del cinghiale perché i cinghiali oramai sono diventati un flagello in tutto il nostro paese con un aumento esponenziale dei danni a discapito del mondo agricolo quindi col diretti e tutte le associazioni agricole hanno chiesto di rivedere questa legge di ampliare il calendario venatorio del cinghiale portarlo dal primo di settembre al 31 di marzo quindi allungandolo quasi di tre mesi però purtroppo in commissione c'era quasi in commissione della camera c'era il parere favorevole ma c'è stata una forte opposizione del movimento 5 stelle poi il governo è caduto e quindi il problema rimasto irrisolto. La modifica delle tempistiche sulle specie cacciabili quindi insomma non è una novità come non è una novità anche il fatto di poter inserire tutte le specie cacciabili quelle previste insomma dalla normativa ecco. Certamente noi quest'anno è stato fatto un buon lavoro c'era l'ipotesi di perdere il combattente l'abbiamo fortemente voluto l'abbiamo motivato abbiamo fornito alla regione delle indicazioni per mantenerlo e la regione l'ha reintrodotto nel calendario. Abbiamo perso negli anni passati il Moriglione e anche la Pavoncella per il Moriglione l'Italia è in attesa di un piano di gestione nazionale per la Pavoncella la regione non l'ha inserita nel calendario ma ci ha promesso di fare un piano di gestione regionale di fare una modifica un'integrazione al calendario questo un po' quello per quello che riguarda le specie cacciabili. Ci occupiamo adesso della situazione regionale anche qui ci sono delle importanti novità perché so che è stato finanziato un progetto di telemetria satellitare per due specie. Noi di Federcaccia abbiamo così finanziato un progetto che prevede le catture nel parco del Conero abbiamo già l'autorizzazione del direttore del parco e vorremmo catturare sia la beccaccia sia il tordo bottaccio e fornirli allorché sono stati catturati di un ricevitore satellitare che riesce ad emettere in tempo reale tutta la sua posizione. Questo consentirebbe di sapere quando questi selvatici arrivano nel nostro territorio, tracciarli tutto il periodo dello svernamento e anche darci le segnalazioni sul periodo della migrazione pronunziale. Il progetto è anche a più ampio raggio, questo c'è anche un intervento, ci sarà anche un intervento di Federcaccia nazionale perché vorremmo istituire nel parco del Monte Conero la stazione di cattura in anellamento più a sud di tutta l'Europa, quindi una stazione a livello internazionale. Questo è un progetto interessantissimo. Poi la situazione della caccia a livello regionale è una situazione che è stata affrontata con molta serietà perché l'assessore Carloni ha attivato tutti i presidi per la peste suina africana, è una peste che attacca i cinghiali ma attacca i maiali pregiudicando tutti gli allevamenti. In questo senso è stata attivata tutta una serie con la collaborazione dei cacciatori, tutta una serie di presenze nel territorio per evidenziare e rilevare eventuali carcasse non attribuibili ad una morte naturale. Questo è stato un bel presidio. Le altre problematiche importanti a livello regionale sono quelle dei danni all'agricoltura. C'è stata un'esplosione anche quest'anno nella nostra regione dei danni all'agricoltura, danni soprattutto da cinghiale e in questo senso si sono pregiudicati enormemente i bilanci degli ATC. A proposito degli ATC, qual è la situazione? La situazione degli ATC è problematica perché tutti gli ATC quest'anno hanno chiuso i bilanci correnti della stagione 2021 con un passivo dovuto all'esplosione dei danni e purtroppo non riusciamo a fare quello che era il compito degli ATC, la gestione faunistica soprattutto della piccola selvaggina stanziale, quindi destinare a questo tipo di caccia, ma a questa gestione di fauna risorse importanti, ma in questo momento sono minimali, per garantire un minimo di appetibilità ad una folta schiera di cacciatori importanti che svolgono un tipo di caccia e di prelievo sul fagiano, starna e anche sulla lepre che consenta un minimo di appetibilità. Quest'anno ci si è messo anche la siccità in modo enorme, purtroppo la situazione è questa. Adesso parliamo dell'attività venatoria e del calendario venatorio che tra l'altro prevede diverse novità. Esatto, esatto, quest'anno è un'annata un po' particolare perché purtroppo a livello nazionale il fronte dei nostri antanguristi che sono le associazioni ambientalisti e animalista si è leggermente spostato. Non avendo soddisfazione come nella regione Marche con i ricorsi ai TAR nei calendari hanno attivato una strategia diversa, ancora più pericolosa e anche più invasiva. Hanno iniziato a fare le diffide e le denunce ai dirigenti e ai funzionari degli uffici caccia di tutte le regioni, ma in particolare nella nostra regione. Nella nostra regione c'è stata la denuncia alla Corte dei Conti con la richiesta di risarcimento danni per le deroghe del 2020 nei confronti di tre, fra dirigente e funzionari della nostra regione. Questo ha messo una pressione enorme a livello di questi dirigenti che devono firmare il calendario dei provvedimenti allorquando si deve andare contro il parere dell'ISPRA. Quindi questa è la prima difficoltà che ha un po' dettato le linee guida del calendario. Il calendario ha seguito per la prima volta il calendario venatorio, abbiamo avuto sia il calendario che le deroghe, che parleremo poi successivamente, hanno avuto il parere favorevole dell'ISPRA. Quindi con il parere favorevole si ha una blindatura un po' più consistente, sia nei ricorsi al TAR, sia andandosi eventualmente i dirigenti a difendersi alla Corte dei Conti. Ha avuto il parere favorevole dell'ISPRA, però ci sono delle novità importanti. La prima novità importante è quella che ritorniamo a cacciare, saremo una delle poche regioni, la Tortora Africana. Quindi era una specie che l'anno scorso, per la mancanza del piano di gestione nazionale, l'approvazione avevamo perso, quest'anno per gli ottimi uffici in conferenza Stato-Regione, prima dell'assessore Stefano Guzzi in Commissione Ambiente, poi con la pressione di Mirko Carloni in conferenza Stato-Regione della Commissione Agricoltura, è stato posto all'ordine del giorno il piano di gestione nazionale della Tortora Africana che è stato approvato. Il piano di gestione della Tortora Africana prevede una serie di interventi che la Regione deve fare. Per quello che riguarda la caccia gli interventi più importanti sono di due tipi. Uno, che dobbiamo ridurre il prelievo del 50%, quindi della media degli ultimi 5 anni. Quindi possiamo prelevare in queste tre giornate di preapertura 6.300 Tortore, che sarebbe il 50% della media degli ultimi 5 anni. L'altra prescrizione che prevede per i cacciatori il piano è la sospensione immediata del prelievo allorquando si arrivi a questo limite. Purtroppo nella Regione Marche nel 2018 il primo giorno di apertura abbiamo prelevato, abbattuto 9.300 Tortore. Nel 2020 7.700 sono cifre superiori a quelle che prevede il piano per tutte le tre giornate e quindi la Regione ha dovuto attivare il sistema di un'applicazione che si scarica nel telefono. In questi giorni la stiamo spiegando ai cacciatori e ne daremo ulteriori spiegazioni il giorno del convegno perché potrebbe prefigurarsi la sospensione immediata della caccia e solo con un'applicazione telefonica ci si riesce. Altre Regioni che hanno contingenti meno di noi ma le abbattono molte di meno hanno tentato quella di un portale regionale, però faccio l'esempio della Sicilia, Altarri ha sospeso la caccia, quindi noi saremo una delle poche regioni che avranno la Tortore africana con il contingente più ampio. Un'altra novità è quella dell'arco temporale del Colombaccio, il Colombaccio lo cacciamo in tutte le sette giornate di preapertura e proseguiremo dal 18 di settembre fino al 14 di gennaio perché è uscita una sentenza della Corte Costituzionale sul conteggio dell'arco temporale. Anche qui vedremo come andranno i ricorsi. La terza novità grossa del calendario è che c'è una riduzione del prelievo del Tordo Bottaccio che anticipa il prelievo al 9 di gennaio, sono 20 giorni in meno. Tordo Sassello, Cesena e Beccaccia al 19 di gennaio, 10 giorni in meno. Le motivazioni sono queste, ci si è adeguati un po' al parere dell'ISPRA che ha seguito la nuova edizione dei Key Concept sulla migrazione pronunziale di queste specie. C'è stata a livello europeo una rivisitazione dei Key Concept, purtroppo l'Italia ha seguito le indicazioni dell'ISPRA, non ha seguito le indicazioni degli altri paesi che volevano uniformare un po' le date di migrazione pronunziali a questa specie. Lo Stato italiano ha seguito l'ISPRA che ha rappresentato nel tavolino della Commissione Europea questa posizione molto rigida e tra l'altro ha anche riportato che c'è una difformità di dati nel documento dei Key Concept. Purtroppo veniamo da queste posizioni preconcette, c'è quasi 50 giorni di differenza. La Regione Marche su nostra pressione ha introdotto nel calendario la possibilità di rivedere, e quindi c'è tutto il tempo, quindi anche a dicembre si potrebbe fare un'integrazione, allora quando ci siano dei nuovi elementi che ci consentono di riportare la chiusura della caccia a queste specie al 30 di gennaio, quindi questa è la terza novità. Finiamo con le deroghe, le deroghe sono molto importanti per la Regione Marche, una delle regioni capofila, ritorniamo a prelevare lo storno, la tortola dal collare e anche il piccione, le preleviamo dalla preapertura, lo storno chiude la prima settimana di dicembre, la tortola dal collare e il piccione proseguono fino al 31 di gennaio. Per queste specie, per lo storno, ritorniamo ad un carniere di 30.000 capi, un carniere non completamente soddisfacente, ma qui c'è stato un buon lavoro dell'assessore Carloni che ha riportato innanzitutto l'utilizzo delle giostre e dei richiami a questa specie che ci consente di prelevarla in un modo soddisfacente. Il secondo aspetto è che sul nostro suggerimento la cifra dei 30.000 può essere rivista se in ipotesi ai primi di ottobre o al 15 di ottobre c'è già un prelievo, si è già arrivati altri col prelievo, ma c'è ancora la presenza delle olive negli olivetti, allora la Regione potrebbe richiedere l'estensione di questi numeri. Ritorniamo ad avere la preapertura più importante d'Italia, ve lo voglio ricordare, quindi preapertura il primo di settembre, 3, 4, i 7, 10, 11 e il 14. Cacciamo nelle prime 5 giornate le tre specie acquatiche che sono il Germano Reale, la Zavola e la Marzaiola, poi abbiamo le specie inderoga, abbiamo la tortora e il colombaccio. L'11 e il 14 per mezza giornata in questi giorni aggiungiamo anche la quaglia che per noi è stata sempre importante. Questo è un po' il riepilogo del nostro calendario, contiamo di recuperare anche la pavoncena. In questo elenco di date ce n'è un'altra, 25 settembre. Ecco, 25 settembre è una data importantissima. È importantissima perché oramai gli aspetti decisionali non si fanno più in Regione. Non è inutile far pressione al Presidente regionale dell'Associazione, è inutile far pressione al Governatore, all'Assessore alla caccia, oramai le cose si decidono in Parlamento con la modifica della 157, si decidono con un Ministro dell'Ambiente che ascolta un po' il mondo della caccia e non solo gli ambientalisti, si decidono con un sottosegretario al MIT, sempre all'Ambiente che è importante e quindi noi il 25 settembre come mondo della caccia andremo a decidere molto del nostro futuro. Che cosa chiederemo ai candidati? Chiederemo che sia rivista la 157 per dare una mano al mondo dell'agricoltura che ci ospita e per noi è fondamentale, quindi una rivisitazione dei periodi della caccia al cinghiale. Chiederemo anche che sia rivisto il ruolo dell'ISPRA a livello nazionale e a livello internazionale e chiederemo infine che la caccia sia riportata sotto il Ministero dell'Agricoltura e non sotto il MIT. Questo per riconsentirci una visione del cacciatore ad un ruolo più importante anche nella società civile. A questo proposito noi vogliamo fare un appello a tutti i cacciatori, lo faremo anche quella sera, ma lo stiamo già facendo, perché soprattutto nella nostra regione e anche qui nella nostra provincia abbiamo delle persone che si candidano, non faccio nomi però, che hanno già acquisito un'esperienza importante nel ruolo della caccia a livello regionale, hanno acquisito capacità anche di sintesi importanti, quindi il mondo dei cacciatori deve essere pronto, l'occasione è unica per avere in Parlamento e anche i ruoli importanti delle persone della nostra provincia che ci rappresentano. Lo ripeto, non faccio nomi, ma sappiamo tutti chi si candida oramai nella nostra provincia, è una buona occasione per avere qualcuno che è vicino al mondo dei cacciatori, che ascolta tutti, non solo i cacciatori, ma per avere soddisfazione compiuta nel mondo della cacciatori. Quindi l'appuntamento, lo ricordiamo, è previsto per il 30 di agosto. Il 30 di agosto, lo voglio ricordare, è un invito a presenziare, la Federcaccia offre la cena a tutti i presenti, è un'occasione importante intanto per rivederci, per stare assieme, una bella serata. Purtroppo dobbiamo parlare anche di queste limitazioni, ma la speranza è di avere, come sempre, un buon calendario, di non avere quest'anno il ricorso e di riandare a caccia fino alla fine di gennaio. E da qui in poi, con questo nuovo governo, vedremo se riusciremo ad avere finalmente una soddisfazione. Chiudo dicendo questo un po' per chi non è cacciatore, chi abbatte quei 3-4 milioni, se non 5, di cinghiali nel nostro paese, se non i cacciatori? Con gli altri sistemi non ci si riesce. Danni all'agricoltura, incidenti stradali, anche mortali, frequentemente. Attacchi dei cinghiali alle persone in ambito urbano, nelle spiagge, lo sappiamo. Il ruolo del cacciatore deve essere rivisto. 30 di settembre ci vediamo ai tre punti, alle 19.30, come negli anni passati. Grazie a Paolo Antonioni. Grazie a Magdalena e grazie a tutti i telespettatori. Grazie a Riccardo Sora che ci ha seguito in regia, grazie a tutti voi dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a Magdalena e grazie a tutti i nostri programmi.